Tragedia del mare in serata a lungo il litorale di San Giovanni su Ergio. Un uomo di 46 anni, per causa in corso di accertamento, è deceduto mentre praticava a caissurf nelle acque di Punte Tretu. Il corpo senza vita dello sportivo, residente in Svizzera, è stato recuperato dai vigili del fuoco di Carbonia. Sul posto, i sanitari del 118, che hanno allertato l'elisoccorso, è accertato il decesso dell'uomo. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti, da stabilire le cause della morte. Se provocata da un incidente, da un negamento oppure da un malore.